Musica Allora Martino smettila David, quando è l'ultima volta che hai fatto sesso? Ok, parliamo di sesso No David, qual è l'ultima volta che hai fatto sesso? Dai, perché dovevo dire? Non so che avere una giacca Ce l'hai? Basta Martino, basta Ragazzi vi posso solamente dire che io e Rubino abbiamo fatto sesso con la stessa ragazza in Trisom esattamente oggi pomeriggio Tu sei un coglione Perchè? Come si fa su noi? Vabbè Attimo sei andato Sguardo che può lasciare a... Che bello che è l'Ukulele Questa cosa non l'ho capita La violenza per me non è mai la risposta Comunque è una chitarra Un'Ukulele No, non è una chitarra Si chiama Ukulele Una chitarra un po' più grande È la chitarra dei Puffi Allora questo è il Mi In teoria Questo è il Sol Minchia non mi ricordo Fammi una melodia che ci faccio un freestyle su Rubino Aspetta 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 Allora questo è il Mi Questo è il Mi Dove? E' questa qua E' la seconda E' la ultima Con tutti è con tutti Meno che con me Assurda La mia ragazza Una melodia Ma perché più che altro è un È un È un elogiar Rubino Ok allora Ok andiamo vai Ehi cosa? Cioè è rubinato esattamente le rose Aspetta allora Aspetta guardami Allora io faccio così Uno E tu ne fai un altro Non so Non so Tieni così Tieni così Uno e due E due Ok vai 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 Ok allora aspetta guarda guarda Io allora faccio Faccio così Uno Due Tu fai ne uno Ok tu Tu rappi Vai Piccolino Piccolino E' terribile Cioè è rovinato Devi ricominciare perché è rovinato Aspetta perché Io faccio uno due E tu fai uno Ok guarda guarda Uno Due E tu fai Un altro Ok così Ok ci sei vai aspetta Uno due e uno due Brava Rubino Piccolino Ti ho incontrato Non mollare Ti ho subito amato Sei un ragazzo Non riesco a stare in piedi Mi piace il tuo cazzo Nooo Però Mi hai fatto oggi venire Dai Nooo Ma io con te Non voglio dormire Cioè hai capito il contrasto con le opinioni L'ho fatto venire ma non vuole dormire con me Vai tocca a te Piccolino No aspetta Un ospite speciale giù Chi è? Un ospite speciale giù Chi è? Un ospite speciale giù Non sono stronzo Credo che un coglione così non lo incontro mai più Minchia Canzone hit Si faceva le tiktoker ma il loro nome non lo disse mai più Poi d'improvviso chiudeva la porta dello studio Che è? Arrivo Che è successo? Tranquillo Si no non me la portavi ogni volta donna scusami Ti piace questo regalo? Si è proprio bello Io farei tutto il giorno così Per poi Si Perché anch'io? La tua migliore amica Si BFF Ma siamo gli e te Vedi io non ci vuole andare con donna Vi vuoi dire Cariala tu perchè Rubino non hai capace Ma fattena affanculo Donna io ho proprio Veramente Si la situazione Cioè questa è Bella live Ma siamo solo gli e te? Si Ok siamo gli stessi più interessanti Vabbè certo è normale E anche più affascinanti vorrei dire Io vorrei Perché Cioè tu sei abruzzese? Che cazzo dici? Sono di Milano io Ah Milano Milano Tu sei di Roma Io so di Roma Sì 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 Sì